Non c'è e non ci sarà nessun proposito di uscire dall'Unione o di uscire dal sistema della moneta unica. Stiamo bene in questo continente le cui regole vogliamo modificare. Non c'è nessun problema, tranne che al confine con la Francia, ma mando le macchine alla Polizia di Stato e lì la risolviamo in altra maniera. Finché resterò capo politico del Movimento 5 Stelle e finché si porterà avanti questo governo, non c'è nessuna volontà da parte nostra né di lasciare la zona euro né di lasciare l'Unione europea. Anzi, i prossimi 7-8 mesi saranno molto importanti perché da tutti i popoli europei arriveranno istanze di cambiamento delle istituzioni, di cambiamento delle regole per quanto riguarda anche il funzionamento delle istituzioni europee e staranno i programmi e decideranno i cittadini con le prossime elezioni europee. Ma dirò ancora di più, noi riconosciamo le istituzioni europee e ci sederemo al tavolo per discutere le ragioni di questa nostra manovra e le ragioni delle misure che abbiamo messo in questa legge di bilancio e che vogliamo portare fino in fondo perché sono molto importanti per il popolo italiano. Grazie. 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 Grazie.